Presidente Cappa, perché BAM crede nello sport e nello specifico nel volley e nella squadra maschile di Cuneo? Intanto perché conosciamo il volley per la squadra di Mondovì, femminile in questo caso, che abbiamo da tempo sponsorizzato. E poi è uno sport sano, è uno sport che fa crescere i nostri ragazzi, così come Mondovì, anche Cuneo maschile, ha un vivaio importante, fa crescere e aiuta tantissimi ragazzi, aiuta le famiglie su attività sportive che fanno ovviamente sempre bene. La banca crede molto in queste cose per i giovani, per quelli che saranno un po' il futuro nostro all'interno di queste zone locali, all'interno del localismo. Noi siamo banca di credito cooperativo, quindi guardiamo molto il territorio e cerchiamo di fare parecchio per lo sport, facciamo degli investimenti importanti, nell'ambito sportivo investiamo quasi 600 mila euro all'anno. Avete dei riscontri tangibili anche rispetto alle vostre precedenti esperienze nella pallavolo e nello sport, su ciò che diventa utile anche alle vostre attività, pubblicizzando, sponsorizzando e promuovendo lo sport? Dunque noi scegliamo lo sport in base un pochettino alla squadra, per squadra intendo dire non solo la squadra magari di prima serie, quella che fa il campionato nazionale, ma per le virtù e i valori che hanno un po' i dirigenti, che hanno coloro che allenano, che hanno quelli che spingono un pochettino quel tipo di sport. Poi è chiaro che la pallavolo è sicuramente trainante, per Cuneo e per tutta la provincia è fondamentale, è importante perché è nata 60 anni fa e quindi ha sicuramente avuto tantissima gente che la giocano, tantissime anche glorie importanti, tantissimi personaggi che ci lavorano e quindi è considerato un ottimo sport. Poi gioco di squadra ed è un po' la squadra il senso che deve avere l'investimento che fa la banca per unire un pochettino un po' tutte le cose e creare così anche con i propri soci, con la propria clientela, un discorso e un gioco anche qui di squadra.